Poste italiane e sale in cattedra, leccio magistralis di Delfante sul ruolo dell'intelligenza artificiale. L'innovazione è stata al centro della leccio magistralis tenuta dall'amministratore delegato di poste italiane Matteo Delfante nella sala capitolare del Senato e organizzata dalla SPES, Scuola di Politiche Economiche e Sociali Carlo Azzeglio Ciampi. Tema dell'incontro, l'intelligenza artificiale, la sua applicazione in poste italiane dalla logistica all'assistenza clienti fino alla nuova super app sottolineando i benefici che potrà portare in termini di produttività e di sviluppo nei diversi business dell'azienda. Delfante ha raccontato anche l'impegno di poste italiane per colmare il digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne in particolare proprio attraverso il progetto Polis. I nostri microfoni lo hanno raggiunto a margine dell'evento. Ecco cosa ci ha detto. La usiamo da tempo in maniera crescente ma diciamo che il mondo speriamo non cambi troppo grazie all'intelligenza artificiale. È uno strumento che in maniera intelligente, misurata, coordinata, vigilata, regolata deve e entrerà nella vita di tutti i giorni dei cittadini, nelle abitudini di tutti i giorni dei cittadini e piano piano è entrata anche ovviamente nelle attività di poste.